Ora si trarrà alla cooperativa Tre Ponti in pratica e ha un grande significato politico che è quello di avvicinare i giovani agli anziani, di far capire le problematiche degli anziani ma viceversa anche quelle dei giovani. Perché oggi specialmente i giovani ci vedono come quelli che sono i privilegiati di questo tipo di situazione. Non è così perché noi riusciremo purtroppo a prendere le pensioni anche quelle che sono migliori sempre che l'economia riprende e i giovani lavorano. Allora da questo punto di vista noi dovremmo essere quelli che sono i fautori di far capire che qui la riprenda deve esserci e quelle poche risorse che sono disponibili sia anche a livello locale o a livello nazionale devono essere spese a favore dei giovani per il lavoro.